Non è detto che se si passa dalla padella alla brace sia peggio rispetto a quando abbiamo cominciato. Almeno questo è il caso di Serena Grandi, la giunonica attrice italiana che ha fatto impazzire almeno un paio di generazioni grazie al suo corpo burroso e alla longeva collaborazione con Tinto Brass, ora si dice più lontana che mai dal grande e dal piccolo schermo, impegnata com'è nella sua nuova attività. Dimenticate le commedie sexy e lasciatasi alle spalle il cammeo per Paolo Sorrentino nella grande bellezza, Serena ha confessato a Silvia Toffanin di lavorare felicemente insieme a suo figlio Edoardo presso la Locanda di Miranda, una trattoria riminese che a giudicare dai commenti più che positivi in rete offre una cucina davvero di qualità. Largo a grembiuli, fornelli e ricette tipiche, adesso la Grandi è un'ottima padrona di casa che intrattiene i commensali con sorrisi, autografi e piatti decisamente succulenti, senza alcun rimpianto per il set.